Come richiesto dal prefetto di Chieti, le integrazioni al piano di sicurezza per i fuochi pirotecnici di San Franco sono state inviate in mattinata dagli uffici comunali di Francavilla al Mare, ma è corsa contro il tempo per il via libera definitivo del prefetto Forgione che, commentando la documentazione presentata nei giorni scorsi dal comune di Francavilla al Mare, aveva parlato di un sacco di patate e di una relazione tecnica carente delle prescrizioni richieste dalla circolare ministeriale del 2018. Il conseguente botta e risposta aveva animato uno scontro istituzionale tra prefetto e sindaca, con il primo che consigliava di concentrare i fuochi solo sul pontile e la seconda che difendeva la scelta dello spettacolo diffuso, pensato nel 2020 dal sindaco Luciani per evitare assembramenti durante la pandemia e riproposto anche quest'anno con le 23 postazioni lungo i 7 chilometri di costa dopo lo stop imposto nel 2021 dal rischio incendi. Inviate le integrazioni richieste resterà ora da capire se il piano sicurezza troverà il riscontro del rappresentante provinciale del governo, ossia ad assumersi la responsabilità per i fuochi di San Franco sarà la sindaca Luisa Russo che per la mezzanotte di domani ha annunciato lo spettacolo dell'esplosione colorata e luminosa dei fuochi d'artificio in onore del santo patrono. Sindaco allora sono state inoltrate queste integrazioni richieste dal prefetto? Sì sono state inoltrate nella mattinata di oggi, avevamo ricevuto una nota del prefetto con alcune prescrizioni, abbiamo provveduto a integrare il piano di sicurezza con delle ulteriori misure di sicurezza proprio nel rispetto della collaborazione tra istituzioni e anzi ringrazio per i suggerimenti che ci sono stati dati. La mia priorità è così come quella delle altre istituzioni la sicurezza dei cittadini e lo spettacolo si svolgerà in maniera diffusa su tutta la costa ma sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni per tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità. Questa formula diffusa piace molto la città perché consente a tutte le attività commerciali e turistiche di lavorare senza creare particolari problemi di traffico e di assembramenti perché le persone si disperdono lungo tutto il territorio. I punti sono 23 abbiamo eliminato anche su prescrizione della Capitaneria il punto previsto al porto perché nel porto non è possibile sparare se non con un'apposita autorizzazione sono dislocati su vari tratti di spiaggia libera o stabilimenti balneari lungo i 7 chilometri di costa da nord a sud copriamo l'intera costa del territorio. Abbiamo avuto un grande contributo dal consorzio città di Francavilla di oltre 10 mila euro e di altri operatori turistici e commerciali li voglio ringraziare perché è proprio un segnale di collaborazione tra pubblico e privato che ho apprezzato moltissimo soprattutto in un periodo di particolari difficoltà per tutti.